L'Italia ha acquistato per 3,25 milioni di euro un piccolo crocifisso ligno attribuito al famoso pittore, scultore e architetto rinascimentale Michelangelo Buonarroti, ora è esposto in una delle sale della Camera dei Deputati. Si tratta di un crocifisso alto 41,3 cm e largo 39,7, un tempo appartenuto a un antiquario di Torino, Giancarlo Gallino, che a sua volta lo aveva acquistato da un antiquario fiorentino. Secondo gli esperti l'opera sarebbe stata realizzata intorno al 1495, quando l'artista era appena ventenne. L'attribuzione a Michelangelo viene fatta tra le altre cose sulla base della tecnica nella lavorazione del legno, della perfetta conoscenza del corpo umano e della somiglianza con il Cristo della Pietà. La preziosa scultura sorprende per il realismo con il quale è ritratto il corpo di Gesù, che secondo alcuni professori di anatomia dell'Università di Firenze, sarebbe ispirato al cadavere di un uomo intorno ai 30 anni. Nel 1492, secondo gli storici, Michelangelo trascorse del tempo al Convento di Santo Spirito a Firenze, dove ottenne il permesso di studiare i cadaveri provenienti dall'ospedale del convento e perfezionare i suoi studi sull'anatomia umana, che poi applicherà magistralmente nelle sue opere. L'opera giovanile di Michelangelo è stata esposta per la prima volta al pubblico nel 2004, al Museo Horn di Firenze, dove farà ritorno una volta fatto il giro dell'Italia. Il crocefisso è stato inoltre presentato a Papa Benedetto XVI durante la sua visita all'ambasciata italiana presso la Santa Sede.